Castelfranco Veneto aveva appena rubato quasi 300 euro di vestiti da un negozio all'interno del centro commerciale Giardini del Sole dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio, ma è stato notato da un addetto alla sicurezza che l'ha bloccato nei guai un 27enne di Resana, arrestato per furto aggravato dai carabinieri del Norm della città del Giorgione. Per lui si sono aperte le porte del Santa Bona di Treviso.